Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, è appena morto il grande cantante italiano, un fulminaccio al sereno ha colpito il cielo della musica nostrana, se ne va un grandissimo artista e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, è stato un triste risveglio per tutti gli appassionati di musica italiana, un grandissimo artista e orgoglio italiano ci ha lasciato nelle scorse ore con immenso dispiacere che il primo ane di Marco Liguori annuncia il decesso e il grande cantante Pino D'Angio aveva 71 anni e combatteva contro una brutta malattia, ha venduto 2 milioni di copie con il suo più grande successo, ma quale idea, un hit molto importante, molto popolare, negli anni 80 ha venduto con lo stesso brano ben 12 milioni di copie in tutto il mondo, Pino D'Angio era originario di Pompei in provincia di Napoli, ma da tempo viveva a Formello, nel Lazio i funerali del grande cantante si terranno proprio nella sua città natale il 9 luglio 2024, ricordiamo Pino D'Angio, grande artista e orgoglio italiano e amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori, il canale dei video di cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti.